buona giornata amici da massimo foghetti sono le sette di oggi mercoledì 6 luglio 2022 si festeggia oggi santa maria goretti una santa molto molto nota nel nostro territorio perché è nata qui nelle marche vicino alla provincia di pesaro a corinaldo nacque nel 1890 una santa che ispira tenerezza vittima scusate vittima di quella violenza che ancora oggi colpisce tante tante donne stuprate e uccise vittima di quel femminicidio che è un reato che non si estingue e che continua a essere perpetrato anche nei giorni nostri uccise dai loro compagni e mariti maria perdonò il suo assassino colpita da 14 pugnalate morì dopo 20 lunghe ore di agonia senza un lamento ma pronunciando solo preghiere la sua casa a corinaldo lo sapete è oggetto di tanti pellegrinaggi di tanta devozione il tempo il tempo di oggi sembra dico sembra cambiare le previsioni dicono che al mattino qualche temporale potrebbe scoppiare tra il pesarese e l'urbinate sole comunque prevalente a seguire salvo locali perturbazioni nell'appennino insomma qualche nube scura potrebbe addensarsi nelle zone alte della regione ma anche dicevo nella zona media della provincia di pesaro i venti sulle coste spireranno da una tensione debole da nord est mentre nell'interno da est nord est le temperature raggiungeranno i 28 gradi in leggero calo rispetto alla giornata di ieri apriamo ora i giornali sulla prima pagina a partire dal corriere adriatico vediamo l'apertura l'apertura è dedicata alla nuova questura una struttura che pesaro rivendica ormai da tanto tempo e l'occasione è quella della visita del ministro guerini che sarà oggi in prefettura sarà in prefettura per firmare l'intesa che coinvolge anche la morgese demanio e comune la morgese e il ministro degli interni però i sindacati di polizia sono contrari e obiettano hanno delle obiezioni alla caserma cialdini dove dovrebbe essere collocata la nuova questura ci sono spazi troppo stretti rischiamo di essere divisi su più immobili hanno detto i sindacati e vediamo la fotonotizia centrale un caso un po strano un caso in risolto a serra valle di carda ebbene una signora ha sentito invocazioni di aiuto è scattata una poderosa azione di ricerca ma non si è trovato nessuno e poi le altre notizie di cronaca pesaro giù lo storico pino di porta rimini perseguita l'ex uno stalker salvato dichiarato innocente dalla cassazione a fano si parla ancora di carnevale quando si parla di carnevale si parla anche di polemiche questa volta interviene l'ex presidente della carnevalesca gianfranco mazzanti che si schiera in una lista poi vedremo dove e come cancellare marche nord schiaffo agli eroi del covid è una presa di posizione dell'ex presidente della regione marche luca ceriscioli nei confronti del nuovo piano sanitario regionale che è stato presentato ieri dal presidente acquaroli apriamo il giornale sulla pagina di fano il corriere adriatico vediamo appunto come l'apertura è dedicata al carnevale carnevale intervenga il sindaco ha dichiarato gianfranco mazzanti i carri non danneggiano il turismo monito comunque del presidente della carnevalesca per le scelte dell'attuale consiglio ebbene quali sono le scelte che contesta anche il presidente mazzanti sono essenzialmente due un'organizzazione che non funziona più come in passato per quanto riguarda il carnevale estivo ridotto ai minimi termini per questione di spazio e non dà un'immagine appropriata a quello che dovrebbe essere il carnevale invernale e molto riduttiva e forse dei qualificanti e poi la questione del tesseramento mazzanti contesta la decisione dell'attuale consiglio della carnevalesca di ridurre il tesseramento soltanto nella sede di via Ranerio 6 a Fano in centro storico in un piano alto dell'edificio di palazzo Gaboccini ebbene una limitazione per coloro che poi non trovano parcheggi non trovano il tempo se invece il tesseramento fosse così parcellizzato in diversi punti della città come si faceva in passato non solo la carnevalesca avrebbe più soci ma avrebbe anche più entrate economiche il che non guasta per un carnevale che ha sempre più bisogno di risorse questa la posizione di Gianfranco Mazzanti ed ora vediamo anche i lavori pubblici di Fano si procede con le asfaltature l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli annuncia l'intervento che si sta facendo a Cerbara e Ferreto dove le strade erano veramente ridotte ad un paesaggio lunare tante erano le buche tante erano le imperfezioni dell'asfalto ebbene sono investiti 200 mila euro con una nuova tecnica un'asfaltatura a freddo per le strade colinari che sembra mantenga più la solidità del materiale che viene impiegato. Giriamo ancora e vediamo la situazione del canale Albani una situazione che risente della siccità ma anche di un problema che si è verificato nei giorni scorsi lungo le sponde del canale un'infiltrazione d'acqua che trassudava il liquido in viale Kennedy ebbene l'Enel deve intervenire ha dovuto intervenire e ha dovuto anche prosciugare il canale si è avuta pressione per quanto riguarda la sorte dell'avifauna che caratterizza il canale Albani pesci, anatrelle, il cigno insomma tutta la fauna che naviga che insomma nuota nel canale Comunque i lavori sono stati fatti a dovere, l'acqua poi è stata ripristinata il comune ha rassicurato gli animalisti, già ripristinato il livello dell'acqua nessun pericolo per pesci e anatre appunto dice il giornale Passiamo a Fossombrone, passiamo a Fossombrone e parliamo di manifestazioni Per la notte dei saldi un mix di eventi, un mix di poesia, di avventura e di magia Domani sera in corso Garibaldi ci sarà il primo appuntamento di Soul Summer Dalle 21 appunto il centro storico si anima e propone Sognando sotto le stelle letture per bambini a cura di storie sui prati con caccia al tesoro e cura del CAI sezione di Montefeltro E poi ci saranno addobbi mai visti, ebbene il biglietto di visita vuole anche la sua cornice vuole anche la sua estetica, il biglietto di presentazione è affascinante un corso come quello di Fossombrone addobbato con gusto e mille colori Così non si era mai visto Oggi la scenografia si completa con l'installazione di cento lampade di cento lampadari, anzi non di cento lampade il che dà ancora un tocco maggiore di classe, di qualità alla scenografia Le foto sul web hanno registrato in solo 12 ore circa 5.000 contatti con una miriade di mi piace e quindi di compiacimenti, gradimento appunto della cittadinanza Giriamo pagina e vediamo Pergola Pergola è nell'area interna ma con un'altra strategia Ed è frutto questo commento di un dibattito tra l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola, e Micaele Vitri esponente del Partito Democratico in Consiglio regionale Ancora a Senigallia, a Senigallia vediamo un incidente Un incidente purtroppo con esito mortale Un'auto impazzita si schianta contro un albero Una donna trovata morta tra le lamiere Sfonda una recinzione Sbatte contro un albero Una sbandata fatale sulla provinciale Doriana Ferretti aveva 60 anni Era la guidatrice di questa auto che si è schiantata Forse è stata colpita da malore Non essendo riuscita a tenere la strada La tragedia è avvenuta intorno alle 16 Lungo la provinciale 2 a Sirolo Senigallia In località Sant'Angelo La vittima, che avrebbe compiuto 61 anni a ottobre Era nata a Serra dei Conti e viveva a Iesi Viaggiava in direzione mare Oltrepassato il ponte sull'autostrada Una zona con tanti rischi Non avrebbe dovuto sterzare per mantenere il veicolo sulla careggiata Invece la sua automobile è stata vista procedere dritto Dritto fino all'impatto con un albero E appunto lì è avvenuta la tragedia Veniamo ora alla pagina regionale La pagina regionale dove ampio spazio viene dedicata alla riforma della sanità La riforma della sanità che è stata così comunicata ieri dal presidente Acquaroli Francesco Acquaroli e anche dall'assessore stesso alla sanità Filippo Saltamartini Hanno presentato ieri le modifiche della legge regionale 13 Spiegando nel dettaglio come funzionerà la riorganizzazione del sistema sanitario marchigiano Ebbene non ci sarà più l'azienda speciale Marche Nord Ma ci saranno cinque aziende provinciali in tutta la regione Restano torrette ed INRCA come aziende a sé aziende speciali autonome Questa è una riforma epocale hanno dichiarato gli amministratori regionali Dunque si parlerà non più di ASUR ma si parlerà di AST E ci sarà l'AST Pesaro Urbino, quella di Ancona, quella di Macerata, quella di Fermo e di Ascoli Piceno Vediamo anche che il percorso di questa riforma Vede entro il 31 ottobre prossimo la definizione delle modalità di subrento delle AST E i criteri per l'elaborazione dell'atto aziendale Insomma è una riforma in fieri che dovrà essere perfezionata durante l'anno E dentro il 31 dicembre ci sarà l'effettiva soppressione dell'ASUR La nomina dei direttori generali AST e dal 1 di gennaio del 2023 diventeranno operativo queste nuove AST Marche Nord incorporata nell'AST di Pesaro Quindi non ci sarà più differenza tra territorio e ospedale L'ASUR sparirà entro la fine dell'anno e dalle sue ceneri nasceranno cinque aziende sanitarie Tutti particolari oggi sul Corriere Adriatico ma anche sul resto delle Carlino Contesta questa riforma il past presidente della regione Marche L'ex governatore Luca Cericioli che a suo tempo era anche assessore alla sanità Dice cancellare Marche Nord è uno schiaffo agli eroi del covid L'ex governatore ASUR moltiplicata per cinque Ebbene aumenteranno anche i costi secondo l'esponente del Partito Democratico E l'altro argomento molto importante oltre a quello della sanità Sanità anche per quanto riguarda l'aumento del covid L'aumento della pandemia che si diffonde sempre più Aumentano i ricoveri ospedalieri ed aumentano i contagi E quindi si raccomanda di utilizzare sempre di più quelle cautele Che possono appunto impedire al virus di diffondersi Mascherine, evitare gli assembramenti, lavarsi spesso le mani Sono raccomandazioni che i medici non si stancano mai di esprimere Ebbene parliamo dell'altro argomento ora della siccità Ordinanze in 60 comuni nelle Marche Senz'Acqua La maggior parte nella provincia di Pesaro Urbino La più colpita da questo fenomeno Urbino è il territorio più esposto a questa crisi L'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi dice Chiederemo anche noi lo stato di emergenza come hanno fatto le altre regioni La regione Marche chiederà appunto questo stato di emergenza Che prevede la concessione di contributi E poi ci saranno ristori per gli agricoltori Che soffrano per la crisi delle loro culture Ci saranno anche risorse per la pulizia degli invasi Contenitori essenziali per preservare l'acqua che cade d'inverno E utilizzarla d'estate 60 saranno i comuni che hanno emesso ordinanze Contro l'uso improprio di acqua potabile 24 sono quelle di Pesaro Prigionieri nei treni bloccati dal fuoco per 4 ore senza informazioni Protestano coloro che viaggiavano sulla linea Roma-Ancona Interrotta dagli incendi in Umbria Corse, soppresse e ritardi fino a 350 minuti Purtroppo non era una colpa umana Questa parte le origini dell'incendio Ma l'ente ferroviario è tenuto appunto a risarcire Veniamo qui all'articolo per quanto riguarda la nuova questura Sarà un patto a quattro e più ministri a vigilare Il titolo che appare appunto sulle Corriere Guerini che oggi visita Pesaro È responsabile della difesa Presenta la firma in prefettura Il protocollo d'intesa Fisserà gli impegni anche per Comune e per il demanio E vediamo come i sindacati qua contestano questa decisione Di collocare la questura nei pressi della caserma Vicino alla stazione di Pesaro Quella è la zona I dubbi sull'accordo dei sindacati di Polizia SILP, SILP, CGL e COESP Tutte le sigle sono d'accordo nel contestare questa decisione Ingressi comuni Un unico ingresso insomma non depone per l'efficienza E la funzionalità di questa struttura Aset, risorse idriche in più Per Fano occorrono altri 20 litri al secondo Marche Multiservizi pronta a soddisfare la richiesta C'è stato un vertice ATO L'ATO è l'autorità d'ambito Il nodo dei pozzi inquinati inutilizzabili Ebbene a Fano si sono scoperti tanti pozzi inquinati dalla trielina Una sostanza la cui provenienza non è stata accertata Non si sa da dove viene Forse è lì da tanto tempo La trielina è una sostanza che si usa in lavanderia Ma insomma nell'entroterra di lavanderie industriali Non è che ce ne fossero tante Quindi è un inquinamento che difficilmente trova la sua motivazione Fatto sta che esiste Perché le indagini l'hanno accertate Un problema però superabile Secondo quello che hanno detto i tecnici Qui abbiamo anche delle dichiarazioni di Marco Romei Direttore dell'ASET che si interessa del settore idrico Ebbene abbiamo un potabilizzatore e altri impianti Tra cui quello ad osmosi inversa Che possono supplire ai pozzi che sono stati trovati inquinati E poi vediamo qualche notizia di cronaca Ossessione all'ex e la minaccia di morte Ma lo stalker è salvato dalla Cassazione Si tratta di un quarantenne pugliese Accusato di atti persecutori e di violazione di domicilio Il GUP lo ha assolto L'ha assolto perché la donna poi ha ritirato la querela per stalking Mentre si procede d'ufficio per la violazione di domicilio E quindi l'uomo è stato assolto per un reato Ma rimane imputato per un altro Il reato per cui è stato assolto Insomma poi l'avvocato è riuscito a porre una lancia In favore del suo assistito Lo avrebbe così trattato la donna con epiteti irrepetibili Offese veramente molto gravi Addirittura sarebbero volati anche degli schiaffi in faccia E tirate di cappelli Una volta le avrebbe impedito di uscire di casa Convinto che lei si fosse accordata per vedere un altro uomo Quindi anche la gelosia è il motivo di questa lite E poi il fatto inspiegabile Accaduto a Serravalle Sette invocazioni di aiuto dal bosco Aiuto, aiuto, aiuto Una donna ha sentito queste invocazioni Uscire da un bosco in questa zona collinare Ebbene la donna ha fatto scattare l'allarme Un piano d'emergenza particolarmente ponderoso Sono intervenuti forze con l'impiego di un elicottero Di un cane molecolare Però tutte le ricerche non hanno dato alcun risultato Ultima squadra a rientrare dall'ampia zona battuta Insomma è stata anche ampia la zona che è stata oggetto di controllo E' stata quella dei vigili del fuoco di Cagli alle 20 di ieri E comunque la donna ha dato l'allarme Si rammarica per quanto è avvenuto Ma lei le invocazioni di aiuto le ha sentite chiaramente Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nella giornata di domani E poi vediamo i giovani di Urbino I giovani di Urbino che si danno da fare Puliscono la città e ricevono un piccolo compenso Si tratta del progetto regionale Ci sto a fare fatica A collaborare per il bene sociale Per il bene della comunità Faccio piccoli lavoretti Che mi dice l'amministrazione comunale Non fatico molto Qualche volta mi diverto anche E ricevo un piccolo compenso E' un progetto che funziona in diversi comuni Diamo un'occhiata ora al resto del Carlino La prima pagina è dedicata a Omicron L'Omicron L'Omicron vola Contagi triplicati Ve l'ho appena detto I numeri di giugno Nell'analisi del direttore del servizio igiene Siamo tornati a livelli di novembre Siamo proprio in pieno autunno a novembre E ora siamo in estate Quando la situazione Dovrebbe attenuarsi sensibilmente Ma non è così Non è così perché il Covid incalza In questa variante Omicron E si sta facendo anche un po' pericolosa Perché se nella maggioranza di casi La malattia si risolve tranquillamente Però ci sono anche casi gravi Che destano preoccupazioni E anche effetti nefasti E poi i richiami Per quanto riguarda la siccità Trielina a Falcineto Circa 50 pozzi inquinati Livelli sotto i libiti Ma resta l'allerta A Urbino Giochi di chimica Per quanto riguarda gli studenti Gli allievi dell'Itis e Mattei Macinano trofei E fanno veramente man bassa Di tutti i premi A Pesaro le polemiche Per la nuova questura I sindacati di polizia Fanno le barricate Oggi arriva il ministro E a Pesaro Furoreggia anche la protesta Per lo sciopero dei taxi Taxi selvaggio No grazie I titolari Contro il governo Che concede una liberalizzazione Delle compagnie internazionali Come Uber E poi vediamo anche Notizie di sport Il gran colpo della vis Di Paola dal Modena Fanno scossa mercato Ieri 5 gli acquisti E vediamole queste notizie di sport Visse veramente un colpo da 90 Biennale a Di Paola Sarebbe Di Paola Manuel Di Paola La visse riporta a casa il suo talento Che compirà 25 anni il prossimo 6 ottobre Ha firmato ieri un contratto biennale Che lo leggo a Pesaro Fino al 2024 Ebbene è un campione Che due anni fa segnò a Pesaro Sette gol in 25 partite E quindi questa volta I biancorossi se lo sono ripresi E poi vediamo qui a fondo pagina La situazione degli arbitri La sezione di Pesaro Si va facendo veramente onore Arbitri stagione da ricordare Ecco le sei promozioni E tra le sei promozioni C'è anche quella di Luca Servilippi Che dal A2 di Calcio A5 Passa a dirigere la Serie A Entrando nella Can 5 Elite Luca Servilippi Che tra l'altro Diciamo così Tra l'altro È un consigliere regionale Della Lega Consigliere comunale di Fano Arbitro di eccellenza Nello sport del calcio A5 È stato promosso Vediamo la pagina Che riguarda il Fano Fano scatenato Definiti cinque acquisti Erano nell'aria Nella giornata di ieri Oggi li vediamo definiti Ingaggiati dal Tolentino L'attaccante Severini E il centrocampista Capezzani E poi Schiaroli Nappo e l'ex Mistura Sfuma soltanto o Micioli Comunque la squadra Si rafforza Dicevo Il resto del Carlino Per quanto riguarda le notizie Vediamo subito La pagina di Fano Fano apre Con la questione dei pozzi Pozzi inquinati a Falcineto Livello sotto i limiti Ma stiamo in allerta Dicono i dirigenti di Aset L'Aset sta infatti monitorando La situazione Si tratta di un solvente Quello che è stato trovato Nei pozzi inquinati Di tipo industriale Fuori dal mercato Non esiste più Al momento Nessuna ordinanza Perché Se questi pozzi Sono inquinati Li si possono escludere Dalle forniture di acqua potabile Abbiamo ancora altre risorse Da poter sfruttare Al momento Non ci sono problemi Ma stiamo rasentando il limite Vediamo come Gli amministratori Si devono da fare Per cercare altre risorse E poi vediamo anche Una presa di posizione Del Partito Socialista Che ieri ha convocato Una conferenza stampa Per obiettare alle decisioni Che la Giunta Fanese Ha assunto Con l'interpello Per il biodigestore Sono state contattate Con una manifestazione Di interesse Altre ditte Hanno risposto Vincenti Feronia E Acea Acea Ambiente Le quali condivideranno Con l'Aset Questa avventura Del biodigestore Secondo invece Il Partito Socialista Questo depone Per una privatizzazione Dell'azienda Che ridurrà Il suo introito Al 30% Quindi Non avrà la Mangioranza Del capitale Investito E questo Insomma Non depone Per il futuro Dell'azienda Per il Partito Socialista Occorre un tavolo provinciale Per ridefinire i contatti Con marche Multiservizi Le altre notizie Riguardano Una iniziativa Dell'assessorato Al welfare Si tratta Del progetto Old But Gold Dall'inglese Vecchio Madoro Lanciato nel 2020 E ora ripreso Dopo la pandemia È una serie di attività Che riguarda Tutti i circoli Anziani Per quanto riguarda Il mantenimento Del benessere Psicofisico Delle persone E tante sono le Iniziative Si parte Con questa calda Terza età Giunta alla 32esima edizione E domani C'è la serata Inaugurale Alla cooperativa Tre Ponti Un altro Argomento È quello Del teatro romano Che purtroppo Non verrà aperto Questa estate Così come aveva previsto L'amministrazione comunale Per i tecnici Non c'è la garanzia Della sicurezza Ebbene Questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti Vi saluta E vi dà appuntamento Domani alle 7 E per le notizie del giorno Alle 20.30 di questa sera Con occhio alla notizia Su Fano TV Grazie per l'ascolto A risentirci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti